La giunta comunale di Chieti dichiara guerra allo spreco alimentare con la delibera approvata nelle ultime ore si avvia infatti un percorso partecipativo per arrivare all'elaborazione di uno speciale strumento operativo chiamato il piano del cibo. Sarà uno strumento per tutelare le risorse e il territorio, combattere lo spreco alimentare ed educare al riuso giovani e famiglie. Piazza Malta sarà la base operativa di questo progetto come spiega l'assessore Chiara Zappalorto. In giunta abbiamo varato questo piano del cibo, più che altro abbiamo tracciato delle linee sulla politica del cibo e di tutto ciò che concerne lo spreco alimentare. Abbiamo stilato una serie di interventi che faremo sul territorio che includono tantissimi profili, tantissime iniziative che metteremo in campo a partire dalla lotta allo spreco alimentare soprattutto in questo momento storico, alla valorizzazione delle filiere del chilometro zero e quindi dei nostri prodotti cittadini, dei nostri prodotti agricoli e soprattutto inizieremo un percorso di formazione e anche di informazione nelle scuole a partire dai più piccoli su quanto sia importante oggi evitare lo spreco di cibo. Abbiamo individuato come luogo simbolico Piazza Malta che nella storia è stata diciamo per generazione e generazione di chietini la piazza della verdura, della frutta e quindi dei prodotti agricoli e di tutto ciò che il nostro territorio ci dona ogni giorno e da oggi partiremo appunto con un cammino fatto anche di condivisione con quelle che sono le associazioni agricole, le associazioni del cibo, le associazioni ambientaliste perché Chieti possa avere una sua politica del cibo appunto che tenda a valorizzare i prodotti, a fare la lotta allo spreco alimentare e soprattutto a costruire dei luoghi in cui mettere insieme tutte queste cose per condividere con la città l'importanza di queste nuove politiche.